Ben trovati la Tg della mobilità dal 2 al 13 agosto, lavori di manutenzione sul percorso tramviario di via Marmorata. I lavori si svolgeranno di notte a partire dalle 21 e sino alle 4 del mattino, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Nelle serie di cantiere bus navetta per la linea 3, tra piazzale Ostiense e la stazione di Trastevere, bus ostitutivi anche per la linea 8, ma sull'intero percorso tra Casaletto e Piazza Venezia. Al via i lavori di riorganizzazione della viabilità attorno al Policlinico Gemelli. L'obiettivo del piano e la sicurezza stradale è la fluidificazione delle strade di accesso all'ospedale. Tutti